Seduta negativa per le borse europee che accusano perdite consistenti, Milano e Madrid sono le peggiori. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano troviamo fin meccanica e buzzi Unicem. I più forti ribassi si verificano su banca MPS in calo di oltre 6 punti. Veduta in frazionale ribasso per il petrolio che lascia per ora sul parterre lo 0,49%. Tra i dati macroeconomici più importanti la bilancia commerciale del Regno Unito è scesa nel mese di settembre mentre l'inflazione è risultata in accelerazione in Cina. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le vendite all'ingrosso dagli USA. Attesa una partenza negativa per la borsa di New York, in particolare il future sull'S&P 500 si muove in netto calo, in sintonia con il derivato su titoli tecnologici USA che scambia 4.674,50 punti.